ciao amici di Nao avete richiesto un allenamento proprio per lo stretching e io sto lavorando mesi dopo mesi per voi provando di soddisfare tutte le vostre richieste e tanto lavoro sono contante contente e farò sempre di più per rendervi diciamo soddisfatti o almeno spero così facciamo di tutto allora lo stretching è perfetto di solito dopo l'allenamento perché molte persone pensano di fare stretching prima però di solito è meglio riscaldare il muscolo prima proprio prima di farlo allungare ok così dopo qualsiasi allenamento potete aggiungere questo stretching per aiutarti a ritrovare l'equilibrio ok sicco fisico e muscolare ok mettete le mani spalle proprio sulle vostre caviglie piedi uno contro l'altro a far farla spalle e indietro ruoteare le spalle ma portando in avanti il petto indietro ok come se si provando di fare una sorta di ruota con le spalle e 4 3 2 e 1 e cambio cambio le spalle portali in avanti portali in avanti e portali in avanti e bene relax schiena dritta spalle giù provate di sentire la schiena che si allunga dalla coce fino alla testa ok proprio lunga immagine che vertebrae dopo vertebrae una centrata perfettamente sopra l'altra inspiro espiro e scendiamo giù mano sopra le mano mettete la fronte sulle mani e relax 4 3 2 torno su allunga la spalle dietro di voi inspiri mani di nuovo sulla caviglia schiena dritta coce giù collo lungo curva la schiena scendo giù e relax 4 3 2 e torno su a questo punto portiamo le gambe di fronte a noi mani sotto i piedi allunghiamoci ok 4 3 2 inspiro su e scendo giù di nuovo 4 3 2 e su di nuovo inspiro su e scendo giù 4 3 2 tornate su portate la gamba destra indietro anche senza esagerare guardate il genocchio proprio portando le spalle diciamo perpendicolari alle nostre alla vostra genocchia e abbassi l'anca giù senterai proprio lo stretch lungo quadricipite e inspiro su giro di fronte e scendo giù su e piano piano cambiamo la gamba portiamo l'altro genocchio indietro senza mai esagerare se senti qualcosa che non quadra modifichi cambia non devi stressarti ok l'allenamento a casa tua senza mai proprio fisicamente con te mi devi dare una mano e li devi modificare là dove è necessario giriamo le spalle verso il genocchio e abbassiamo le anche proprio semplicemente come se stessi provando di sedere dentro una sedia che sta un po' lontano ti allunghi senti sul quadricipide inspiro su e scendo avanti 4 3 2 e su eccellente adesso portiamo le gambe in seconda posizione ok non dobbiamo allargare lì troppo proprio una bella diciamo lunghezza dove non senti troppo stress in giusta misura stendendo le braccia portiamo un braccio in avanti e scendo come se stessi provando di segare il mignolo del piede ok su questa è la pilate si chiama so e su giro giù e su e su giro giù e su giro giù e su giro giù e ultimo giro giù torna in centro mani dietro di te porti le anche in avanti anche non dovete scendere in avanti ma porti le anche in avanti senterai l'allungamento sull'interno coscia 4 e 3 e 2 braccio scendono andiamo giù ok lateralmente provando di tenere entrambi le ossa delle anche a terra e salgo e dall'altra parte ok giù 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 e salgo e cambio e salgo e cambio di nuovo eccellente ragazzi ok adesso portiamo le gambe in avanti scendiamo sulla nostra schiena a questo punto portiamo una gamba alla volta su a volte le gambe destre su e la porto verso di me ma non è necessario fare questi spaccati proprio la porta verso di me ancora adesso piega la gamba e la porto fuori proprio fuori dove me la sento io eh non devo esagerare stendi l'altra gamba ritorniamo in centro piega la gamba e cambia su e porta verso di me inspiro l'allargo lateralmente torno al centro porto il ginocchio al tetto e scendo giù ok porto le ginocchia in centro piego le gambe mi prendo i piedi fuori si chiama happy baby e dondo la destra e sinistra proprio per la schiena stendo le gambe bene 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 4 3 2 piego le gambe mani dentro le ginocchia saliamo di nuovo stendiamo in avanti tira su relax io spero che passate una giornata splendida alla ricerca di ti stessa della tua felicità della tua capacità della tua positività e ti aspetto al prossimo elemento insieme qui a now baci dalla G grazie a tutti quando